, è per me ciao a tutti quelli che hanno выглядto in questo nuovissimo episodio di back to the future ritorno al futuro come cavolo lo volete chiamare Allora siamo qui nel secondo capitolo che si chiama Cattura Tennen a quanto pare durante. I primi quindici celle ci episodi abbiamo combinato dei cazzini nel 1930 e ora dovremmo cercare di recuperarli altrimenti tipo Moriremo di brutto Ok, iniziamo questo capitolo, ha un nuovo obiettivo, si mostro gli obiettivi, ma queste cose dovresti sapere, amico mio, you should know this, ok, tell tell games, vabbè, fin qua c'ero, presenta la sensazione con l'università, si, ok, lo sapevo, levati, back to the future, the game, Capisco, sabato 13 giugno 1931, siamo tornati finalmente dietro questo cartellone magico, con la vettura del passato super magica, dietro c'era DeLorean, anche questa super magica, insomma viaggio del tempo, ok, traduzione di Alberto Abate, Traduzione di Gianluca Grippa, naturalmente ho messo, ho applicato la traduzione, Sabrina Manzari e Vito Lanci, beta testing e supervisione, giustamente, ecco, sto scomparendo, Stai morendo? Si che ce l'ho Oh Merda Dobbiamo tornare indietro Eh ma non abbiamo carburante, scusa, una carica un viaggio, me lo ricordo dal film Cos'è che ci ho messo dentro? Eh, bella merda Chi è lui? Chi sei? cosa vuoi da me? ma è proprio una che stavo per partire sfuggi al poliziotto al lato del passeggero vai ora dobbiamo... what was what? attaccalo doc spakeasy orsonist un legenda spakeasy orsonist se non mi piace vai ah li ho buttati dall'altra parte però carrezzina eh sono dall'altra parte dai gira a sinistra veloce ma no non di la a spese appunto è una delorian dov'è? merda ne ho pennello da dietro ora gira a destra pare ulti posteriore vai le chiavi le chiavi prendi le chiavi dove stanno le chiavi? dove stanno le chiavi? vai vai sali 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 metti le chiavi insomma è una macchina del tempo ed ha bisogno delle chiavi non ho capito io sta storia vabbè vabbè finchè non torno scusa se ho la macchina del tempo torno nel preciso istante in cui me ne sono andato no? genio no oh my god ora non ho nemmeno l'aiuto di doc cazzo magia oh senza aiuto di doc oh cazzo non posso non posso almeno andare lì chiedere suggerimenti a meno che io non vada dal doc che è in prigione adesso mi finga il doc che no che è impossibile guarda finalmente lo giano sta spostando oh lo vedo I see you oh merda ah 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 no è ancora lì bene perchè non ti interessa ah no è ancora lì bene perchè non ti interessa lola il cane mi ha visto il cane mi ha riconosciuto il cane mi ha riconosciuto oh merda ecco ah ah eh perfetto lancioglielo via oh merda prendi prendi lo prendi lo stecchetto oh merda penserà che è scemo me la ricordo sta scena oddio troppo deja vu uuuu e ora tiralo ah e dove te lo lancio eeeh si che lo vuole oh merda dove lo lancio oh gazebo vai 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 eeeh The fuck Ma ce la farò andare via da lì? Devo rilancio Letteralmente non ho tempo però Gira 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 Ah edena Che stronzo che sono Lol Vai via Eh si ma io sto per morire amico mio Sappivatelo Quello è un tizio di Tennen 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 Fappin Fappin Eh 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 Ehm... Ehm... Yes, yes. Ehm... Ehm, più o meno. Ehm... 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 The fuck? Oh my god, è così malata questa cosa! I thought I'd never leave. At least now I have a clear shot to the courthouse. Ehm... Entroci. Ehm, porta al tribunale. Ecco, entro io esce lui, giustamente. Ehm... 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 Bella merda. Cos'è un cucchiaio? Ma... 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 fa... Oddio con un cucchiaio. Ehm... Con un dannatissimo cucchiaio? Non lo so. Appunto. Eccolo. Lo vedi stanno sempre nelle zuppe? Ehm... La zuppa kitchen. La kitchen della zuppa. Là dentro, insomma. Corri! 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 Ah, il tasto destro. Perché si vede così ravvicinato? Troppo ravvicinato? Non vedo la strada a momenti. Facciamoci vestire! Nooo... Ah, è vero. Ti rinascondo. Via libera. Let's go see the boss. Il boss? Ma il boss non è... Non sta prendendo tipo il cam... Oh, ma io non ci capisco più niente. Ah, possiamo andare in quel vicolo. Cosa figa e giusta. Trixie Trutter. Chi è quella signorina? Ah... Trixie. Ah, è quella la del... È quella la del volantino. Mua! Mua! Tu anche, Miss Trutter. Eh, sì, siamo tutti felici come clam. Ora scram! Lol. Dead ass. Come... Che sorrisetto! Oh, Madda. Eh, lol. No. 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 Eh... Oh, Madda. E quindi... Ma Kid non vuol dire bambino? Cioè, lo chiamano bambino? Oh, Madda. No. Sto merendo di brutto. Me lo sento. Cioè, me lo sento. Lui se lo sente. Sarebbe figo se mi dessero tipo... Un tempo? A sto punto. Oh, no. Ma aspetta, ma... Ah, no. Ok. Cassa media. Ehm... Ehm... Appunto. C'altro? C'è altro? Cassa grande. Un'altra? Aspetta, io non ho una... Un... No, scherzavo. Ehm... Aspetta, va che esco da Skype. Cassa... Ah, no, 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 no. Allora. Sarebbe. Naa, no, c'è quiил hallway. Mmm... Fics pot이다 Dasquire Cioè, c'è... Lo l. Mm, hi? Io, 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 io Lol Lol Au Certo Che senso Vabbè Oh, guarda, guarda, si sta spiegando Oh, chloroformio Interessante What the fuck Hello A bec Ok Il kid Il bambino Più o meno Perché sono al piano Allora, prendiamo il chloroformio, direi Poi, bottone antipanico Bottone antipanico Boh Oh, merda Spera che non mi guardi Aiuto Vabbè, io lo premo io, allora È caduta una bottiglia, hai visto? È caduta una bottiglia Cosa buona e giusta, mi sa che mi serve Bottiglia Dermid's Canadian whiskey Insegna Ok, vediamo gli aiuti Tieni il naso come tu, c'è il pennello mentre lavoro Dove intinge il pennello? Ah, usare il chloroformio Dov'è la boccia? Ah, dove, la cacchio l'aveva vista Ah, il chloroformio, vai Con la bottiglia d'inchiostro Quanto cacchio ne hai messo? Gliene hai messo Lol Ok, allora, possiamo Guarda sul balcone Prendi un foglio di carta What do I spy con i miei piccoli occhi? Word games? The fuck? Trixie Trotter, world famous Chanteuse Non ho mai mai parlato Lol Lol Ok Moro Vabbè, nessuno può leggere il chloroformio Allora, senti Voglio accendere Il territorio dell'insegna Lol Ah, non è la stessa cosa che usavamo per il... No, ok, scherzavo Allora, vai di là Eh, ho capito Ti devi muovere A meno che io non guardi sul balcone No, posso metterci qualcosa qui Se io faccio tipo, se uso il chloroformio No Se uso il chloroformio Sul bancone No, scherzavo Se metto un foglio... Aspetta, guardiamo un foglio No No, non posso metterlo lì Però posso guardarlo Esamino oggetto Cosa do a spy with my little eye A spy a dry guy Do you know what's down below? Low... Low lives and vermin Why should I let you in? Ehm... No Ai ai Low low In in Ai ai Low low In in Cosa dovrebbe significare questa cosa? Allora, vediamo Clicchiamo il bottone Così la tiriamo qua Poi diamo la bottiglia Don't ask... Don't ask me why Chi è? Ah no, è sceso Allora, vediamo Eh, ho capito Sì Prima di riaccendere la lampa Provo di riaccendere l'insegna di... Sì, ok, ma dopo quello come fa? Vabbè, noi... Vai vai Interruttore 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 L'olio si è bugato, mi sa Sì, mi sa che sei bugato Ok, ora come faccio? Eh, cosa puoi usare per liberartene? La mia bottiglia contro la testa di... Fa, 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 fa Colpisci! Bravo! Bene, bene, stai tornando, stai tornando, bene, 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 bene Salva Marty? Ehm... 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 What the fuck? Ah... No 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 Ok, quello che sono io che vado E entra Sei andato il vecchietto, sì C'è il vecchietto Bitch E allora ho portato il DeLorean, e veniva percibendo a te Ehm Ehm Non ancora, abbiamo ancora questa lucella che si tratta Non, non mi tratta di nuovo Non mi tratta di nuovo Il è venuto Per favore Per favore, tu non sarai sicuro in Hill Valley, mentre Kid Tannin rimane all'interno Non preoccuparti, sono andato da più vicino di Hill Valley, e non mi arrivo mai Sì, esatto Yes Non mai più Penso lì sì Dove stiamo andando ora? 15 maggio, bene Torniamo a casa Torna a casa Lessie O Lesby No, Lessie, Lessie No 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 Più o meno No Ah, no Interessante Interessante Bene, dai, sono contento Ok Perché sento dei tins tins Riprendi dal tuo adolescente vita Friggi, zanzare Ah, che cos'era? 9309 Porto al garage Cassa del latte Ehi, qualcuno a casa? C'è qualcosa di wrong with my key Ah 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 The fuck? Ah 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 they left town years ago you would know if you really were marty how can i convince you tell me something only marty would know johnny be good the first time he kissed mom was at the enchantment under the sea dance what are you waiting for george let him in ora mi trovo due vecchietti no way oh my god dad what happened to you what do you think happened butthead yeah i thought we told you to stay out of town shrimp uh whatever's going on i'm sure we can handle it oh menda reasonably who are they like you don't know cliff and riff what do you think we should do with him baby bro i'm gonna enjoy this mcfly wait wait i'm trying to process here eeeeh what the hell did you do to my dad your dad's been in that wheelchair since before you were born butthead and you better hope he has a spare because you're gonna need one in like three seconds eeeeh schiva abbassati schiva eeeeh abbassati eeeeh eeeeh eeeh 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 metta famiglia criminale interessante eeeh 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 Che cosa con la mia mamma? Cioè, come si è finita con il mio papà? Che ci sono? Credo che ha una cosa per i perditi. Si potrebbe avere nessuno di noi, ma si è finita con il Gimpy McFly. Senta. Ehm... Sì che è funny. Schiava verso sinistra. Ah. Eh, direi che saltiamo. No che non ricordo. Ah, schiava verso destra. Ehm... Sì? Ok, ma... Biff, cosa succede a te? Quando io andavo qui, eri un po' di miedo, mio papà. Oh, di miedo? Ah, di miedo? Senti questi, mi dicono. Picciali. Prendi la pistola, prendi la pistola. E picciali. Ma soprattutto picciali. Un po' di miedo. Un po' di miedo. Un po' di miedo. Non dovrei lasciare la flusy, che mi racconti, mi racconti, mi racconti, il tuo padre. The fuck? Kid Tannen? Oh merda. Ahia. Arriva Doc, vai Doc. Ma va? I don't know. Uh... 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 Jesus, grab the arcade! Yeah. Yes! Uh... Yes. Uh... Non è un'opzione, doc. PUNCHE IT! A TAVOLETTA! Che belle quelle di miei temporali. Ok. PIXI. Eh, Danny Parker? Probabile. In ogni eventi, somehow, we've changed history so that neither of these events happens. Condemnere la tua famiglia per generazioni di abuso nelle mani delle famiglie di Tannin. Dobbiamo tornare in Tannin spiegato. Vediamo cosa è vero e prendiamo il figlio di Tannin arrestato. No problemi, doc. Devo mettere solo la mia hat e sono buono per andare. Cos'è? Ora sono un criminale? È necessario? È necessario. Non puoi lasciare il figlio di Tannin sapere che sei il stesso problema che Foyle ha intentato di uccidermi. Sei sicuro che non puoi arrivare con me? È molto più pericoloso. Potremmo essere facile a dischiare con le tue non descripite, ma mai dopo il mio amore di escapare dalla polizia o dalla mob, il mio viso distinctivo è stato scoperto su ogni papà, da qui a Reno! Sì. 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 Interessante. Sì. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Che voglio salvare? Salva partita. Salva? Sì. Grazie per avermi seguito in questo episodio un po' più lunghetto. Vediamo come va, vediamo se vi piace di più un episodio lungo. Ciao toru toru tutti. Ciao.